ciao a tutti sono Andrew Rozza bentornati in un nuovo video su nightwood oggi mega spacchettamento di forzieri ne voglio spacchettare con voi ben 100 quindi adesso vi farò vedere quali spacchettiamo allora ne spacchettiamo 50 d'oro 10 forzieri delle gemme 10 dello stile siamo a 70 spacchettiamo 5 forzieri dell'eroe e 5 forzieri di rupo scura di modo che così andiamo a fare gli 80 poi ne spacchettiamo 15 di forzieri di legno e poi 5 tra i pack vinti dai dai boss allora iniziamo con questo mega spacchettamento partendo dai 15 forzieri di legno un po' più Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Fatti questi passiamo ad aprire Siamo arrivati a 20 Passiamo ad aprire i 50 forzieri d'oro Aprile 10 Quando andiamo in dieci in dieci Grazie a tutti 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 Poi Grazie a tutti Grazie a tutti Poi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti